Musica Fase di gioco piuttosto confusa Non certo apprezzabile dal punto di vista estetico Ma vedete qui una finezza da parte di Biondo E su Biondo c'è anche un fallo commesso inquadrato l'arbitro Rosica Che ha fischiato la punizione in favore del Lecce Il fallo su Biondo è stato commesso da Campilongo Melchiori Il lancio di Melchiori in direzione di Rizzolo Rizzolo, pallonetto e Lecce in vantaggio al quinto minuto Lecce 1 Venezia 0 E vedete Rizzolo che va a raccogliere gli applausi sotto la curva sud Dunque Lecce in vantaggio al quinto minuto Sul lancio, rivediamo alla ralentilazione Il lancio di Melchiori Rizzolo vince il corpo a corpo con Verga Poi con un preciso pallonetto Supera in uscita il portiere Caniato Lecce in vantaggio al quinto minuto E legittima l'esultanza della panchina leccese E' stato Rizzolo a segnare E' il secondo gol di Rizzolo che vedete Felicitato dai compagni In questo campionato Rizzolo aveva segnato in precedenza Contro il Monza Contro il Monza